Ho apprezzato l'intervento del leader regionale dell'Udc che scende in campo per dare una mano agli amici locali spostando l'attenzione del suo partito dagli equilibri numerici interni alla maggioranza, all'attività amministrativa e alle cose da fare, ha detto il sindaco Mario Conoci. Su questo terreno le riflessioni all'interno della maggioranza sono in corso sin da prima dell'avvio del mandato e addirittura della scelta del sindaco e non si sono mai fermate, ancora di più in questi ultimi due anni. Con il rompere della pandemia è stato necessario modulare l'azione di governo per far fronte alle mutate condizioni che hanno impegnato l'amministrazione sia sul fronte sanitario che su quello della programmazione e dello sviluppo. Lo abbiamo fatto tutti insieme, ha aggiunto il primo cittadino, individuando sempre scelte condivise anche dall'Udc che infatti mai ha fatto mancare il suo consenso attraverso discussioni e confronti approfonditi. Voglio rassicurare l'Udc che continueremo a farlo su tutti i temi in campo, senza prevaricazioni e condizionamenti. Altrettanto voglio rassicurare l'Udc sul mio costante impegno per favorire l'unità della coalizione rispetto alla quale deve permanere però l'altrettanto fondamentale contributo dei partiti che la compongono, su correttezza e lealtà e superfluo ogni invito, essendo questi i principi che hanno da sempre caratterizzato il mio operato. Correttezza e lealtà, aggiunto ancora Mario Conocci, verso i cittadini e verso gli impegni presi nei loro confronti, verso la coalizione e infine verso i singoli partiti. Proprio in quest'ordine e sono sicuro analoghi principi e priorità sono propri di tutti i componenti della coalizione. Le mie dichiarazioni circa l'esito dell'ultimo confronto di coalizione altro non sono che il riassunto di ciò che ogni forza politica ha espresso e mi dispiace non siano piaciute ma sono la semplice e rispettosa rappresentazione della realtà, ha concluso il sindaco di Alghero. Infine non ho dubbi sulla tenuta della coalizione a livello locale, sul è non solo finale, spero altrettanto, ma davvero non so a cosa ci si riferisca. Per chiudere confermo il mio massimo impegno per dialogare con tutti e su tutto nel massimo rispetto e correttezza, a garanzia della coalizione, naturalmente senza imporre né subire imposizioni.